Nuovo caso nella formazione 600 mila euro fulminei. I soldi sono stati assegnati in pochi minuti tra gli enti, anche una società che avrebbe curato la campagna elettorale di frattura e Petraroia. Bilancio in passivo pesano le spese correnti, l'indagine pubblicata dal Corriere della Sera mette a nudo un paradosso, 60 dei 70 milioni di buco nella regione sono destinati a stipendi e amministrazione ordinaria. Palazzo San Giorgio bilancio e incarichi in consiglio comunale a Campobasso lo strumento finanziario e polemica per la consulenza un ingegnere che deve progettare la videosorveglianza. Nuovi arrivi di migranti a Isernia, 30 di loro saranno ospitati probabilmente all'hotel Sayonara, oggi in prefettura alla protesta degli stranieri che sono nella struttura di Pesche. Pubblicati i gironi molisane nel gruppo F, se la dovranno vedere con squadre marchigiane e pugliesi il Campobasso domenica in casa contro la Recanatese a Gnone, a Chieti e l'Isernia a Matelica. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Tg delle 14. 600 mila euro assegnati in maniera sospetta scoppia l'ennesimo scandalo regionale, questa volta legato all'assegnazione dei voucher formativi destinati all'occupazione. Coinvolta anche una società vicina a Frattura e Petraroi avrebbe curato per entrambi la campagna elettorale. Sentiamo in apertura Pasquale Di Bello. Due progetti fotocopia da 300 mila euro l'uno ed una sola società partner per entrambi. Tutto nel giro di pochi giorni e col sospetto di una pesante intromissione politica. E' questo l'ultimo scandalo della regione molise, quello legato ai voucher formativi finalizzati all'occupazione. Partito Don Chisciotte, il molise di tutti vagheggiato da Paolo Frattura, si è trasformato nel giro di soli tre anni nel molise di Sancio Pancia. La pancia, per capirci, è quella degli amici, dei compagni e dei compagni degli amici di quella caserma prussiana dell'eguaglianza che via via si è trasformata in un bazar da terzo mondo. L'affare dei voucher vale esattamente 600 mila euro, assegnati agli enti Momento Formativo e Asia Onlus, collegati ad una società, la Planet Call di Campobasso, attorno a cui si addensano i pesanti sospetti di un intervento politico. Secondo informazioni attendibili, la Planet Call è quella che avrebbe curato la scorsa campagna elettorale per il presidente della Giunta Frattura e per il vicepresidente Petraroia. Ma i sospetti non si fermano a questo e si estendono alle modalità di assegnazione del bando. Aperto alle 8 del mattino del 20 maggio scorso, alle 8 e 2 secondi il bando si è di fatto già chiuso. Dopo solo due secondi, infatti, e in contemporanea, rispondono entrambi gli enti poi risultati vincitori con due progetti. Su un massimale di 300 mila euro, presentano entrambi una proposta identica, oltre che nella sostanza anche nella cifra, 299 mila 475 euro ciascuno. Alle 8 e 3 secondi, al protocollo della regione, arrivano altre due proposte da parte del trend. Ma è troppo tardi. I quattro progetti, esaminati dal nucleo di valutazione dell'assessorato al lavoro, magicamente totalizzano tutti lo stesso punteggio. Scatta quindi il meccanismo dell'ordine di presentazione e il trend è fuori dalla porta, ma rientra dalla finestra. Nei progetti dei vincitori, che evidentemente leggono nel futuro, proprio il trend è indicato come sede presso la quale svolgere le lezioni. La fase pratica, quella più sostanziosa di ben 520 ore sulle 605 del corso, è destinata alla sede operativa della Planet Call a Santa Croce di Magliano. Oltre ai sospetti, è il presunto sbocco occupazionale a rendere ridicola, oltre che maleodorante, la vicenda. I due progetti fotocopia sono entrambi finalizzati all'occupazione di personale da destinare al settore dei call center, un comparto in fase di smantellamento come i licenziamenti legati alla società 3G dimostrano. Per la regione molise, un settore alla canna del gas viene contrabbandato come bacino di sicuro accesso al mondo del lavoro. Siamo alle solite, nel Molise di Sanciopancia il ridicolo si somma sempre all'ingordigia e agli intrecci. Non è forse ridicolo che una società, la Planet Call, vinca due volte il bando e allo stesso secondo insieme ai propri partner. Per le statistiche è un fatto impossibile, l'equivalente di vincere due volte di seguito alla lotteria nazionale o essere colpiti due volte da un fulmine durante lo stesso temporale. Ma il Molise di tutti e Frattura e Petraroia sono due maghi capaci di tutto, anche di sfilarsi i pantaloni dalla testa e farci credere che è vero. E finisce in prima pagina sul Corriere della Sera il buco da 71 milioni nei conti della regione molise. L'attuale giunta regionale non quella precedente è accusata dal quotidiano di via Solferino di aver usato per le partite correnti, per intenderci stipendi e indennità, ben 60 milioni destinati a pagare i creditori. Sentiamo Enzo Di Gaetano. I soldi destinati a pagare i creditori della regione molise sono stati usati per pagare le spese correnti, ovvero fitti, servizi, stipendi e per finire le ricche indennità della casta. La notizia del magheggio nei conti della regione l'ha tirata fuori il Corriere della Sera, che in un suo articolo afferma che il Molise ha un buco accertato di 71 milioni. Comincia tutto nel 2013, quando l'aggiunta Frattura inizia a dire stiamo tagliando la spesa. Non era così, lo scopriamo quando la Corte Costituzionale, su appello della Corte dei Conti, boccia il bilancio della regione Piemonte accusandola di aver utilizzato i denari destinati al famoso pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per finanziare spese correnti di altro genere attraverso un'interpretazione discutibile, secondo la Corte, del decreto letta Renzi. Subito si scopre che la questione riguarda un po' tutte le regioni italiane e naturalmente anche la regione Molise, che si ritrova a un buco di ben 71 milioni di euro. La questione è particolarmente interessante perché, a detta della stessa regione Molise, i debiti verso le aziende ammontavano alla ben più modesta cifra di 11 milioni di euro, senza considerare i debiti ASREM, come furbescamente tenta di fare la regione Molise. Insomma, l'aggiunta dei risparmi, dei tagli, del non ci sono soldi, dell'inalzamento delle tasse locali, dell'usciamo dalle partecipate, del niente più consigli di amministrazione per i trombati, ha fatto un buco di almeno 60 milioni. E questo, se si vuol dare per scontato, che i famosi 11 milioni di cui sopra siano stati effettivamente pagati alle aziende creditirici che intanto continuano disperate a battere cassa. Dove sono finiti i 60 milioni che mancano? Come sono stati spesi, visto che non c'è mai un centesimo per nessuno? Continua a far discutere la costituzione dell'Egam, l'ente per la gestione dell'acqua imposta dalla regione. Molti sindaci guardano con interesse alla decisione che mercoledì assumerà il comune di Campobasso, cioè domani. Prudente ed articolata la posizione del sindaco Antonio Battista, che ha preannunciato l'adesione al Consorzio per evitare il commissariamento, ma i dubbi per strane manovre sull'acqua restano. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Ancora pochi giorni a disposizione dei comuni per decidere l'adesione all'Egam, l'ente di gestione unica dell'acqua, imposta con delibera della giunta regionale, pena il commissariamento. Molti sindaci impugneranno l'atto davanti al TAR, mentre altri attendono con interesse e la scelta che farà il comune capologo di regione, prevista per mercoledì. Decisa ma articolata la posizione di Antonio Battista, che annuncia la sua adesione per evitare il commissariamento. Ho presentato una delibera in Consiglio Comunale appunto per prendere atto che il comune di Campobasso farà parte dell'Egam, ma è un processo ineluttabile, è una presa d'atto rispetto alle disposizioni di legge nazionale e rispetto alle delibere di giunta regionale. Quindi saremo chiamati a lavorare proprio per garantire acqua pubblica e garantire costi bassissimi per l'erogazione del servizio idrico ai cittadini di Campobasso e dell'intera regione. Alcuni sindaci stanno tentando un ricorso amministrativo contro l'Egam perché hanno paura della privatizzazione dell'acqua. Beh intanto se ci sono dei vizi di legittimità i colleghi sindaci probabilmente hanno fatto bene a presentare dei ricorsi. Io tuttavia la penso in modo diverso. La non partecipazione a l'Egam dal luogo da un commissariamento, praticamente a una sostituzione del sindaco con un commissario che verrà nominato da un'altra autorità che probabilmente sarà l'autorità regionale, che farà ovviamente seguirà indirizzi politici che non sono gli indirizzi che verranno resi dai consigli comunali ma sono altri indirizzi politici. Oggi l'Egam è un consorzio di sindaci, un consorzio di comuni che si devono autogestire la risorsa idrica a disposizione e la non partecipazione appunto esautora il sindaco, esautora i consigli comunali rispetto a decisioni importantissime oserei dire strategiche che ci toccherà prendere nei prossimi mesi. Ma il rischio privatizzazione non è escluso, esiste? Guardi il rischio privatizzazione semmai dovesse esistere nella volontà di qualcuno è più forte se i comuni non ci fanno parte. Occorrerà dotarsi di indirizzi da parte dei consigli comunali per partecipare all'Egam con l'obiettivo di mantenere l'acqua come una risorsa pubblica. Si paventa anche il rischio dell'aumento delle tariffe con l'Egam? La non partecipazione e farsi rappresentare dal commissario significa che quelle decisioni di pareggio di bilancio dovranno essere prese dal commissario. Ovvio che nella uniformazione del sistema tariffario regionale qualcuno vedrà la propria tariffa aumentare, qualcuno vedrà la propria tariffa ridotta. E poi c'è la grande questione negativa delle perdite che ci sono nel nostro sistema idrico regionale. Rispetto a questo occorre impegnarsi. Alla regione chiediamo, intanto siamo prudenti rispetto all'Egam, ci faremo molta attenzione ma comprendiamo che era una iniziativa ineluttabile e indiscutibile l'adesione. Ma chiediamo che ci stia vicino perché abbiamo bisogno di finanziamenti per generare, per creare, per avere nei prossimi anni un sistema che non sia un collaborodo come quello che abbiamo oggi. Dunque domani il Consiglio Comunale di Campobasso sulla questione Egam. Intanto oggi si è riunita l'Aula di Palazzo San Giorgio sul bilancio di previsione dopo il rinvio della scorsa settimana per mancanza del numero legale. Ma non mancano i malumori e le tensioni, in particolare sulla nomina da parte del Governatore Frattura, del Consigliere Comunale Massarella. Sentiamo tutti i particolari da Anna Maria Di Matteo. Bilancio di previsione piano triennale delle opere pubbliche al vaglio del Consiglio Comunale di Campobasso dopo lo slittamento della scorsa settimana per mancanza del numero legale. Ed oggi la maggioranza è chiamata ad un importante banco di prova per smentire le voci che invece parlano di una coalizione sull'orlo, di una crisi di nervi. In effetti la crisi di nervi l'ha sfiorata il sindaco Battista, visibilmente contrariato per la sospensione dei lavori causata dalla verifica del numero legale chiesta dal Consigliere di Opposizione Pilone alla ripresa solite schermaglie in aula. L'opposizione contesta l'impostazione del documento contabile che dice non aggiunge nulla a quanto fatto nello scorso anno. Bilancio lo specchio dell'attività del mandato amministrativo e se quello dell'anno scorso era fortemente deludente ma parzialmente giustificato da un'impostazione derivante dalla precedente di amministrazione e questo bilancio è tutta farina del sacco di questa giunta battista. Per la maggioranza si tratta di un buon bilancio nonostante l'eseguità delle risorse a disposizione dell'amministrazione. A mio parere è il miglior bilancio che poteva essere presentato in questo momento storico politico di questa amministrazione. Vengono rispettati tutti i parametri stabiliti dalla legge quindi diciamo che è un bilancio che per adesso può soddisfare la nostra amministrazione soprattutto in ragioni previsionali. E poi all'interno della maggioranza in particolare del PD serpeggia il malumore per l'incarico che il governatore Frattura ha affidato al consigliere comunale Massarella. Se ci riferiamo al gruppo consigliare presente in questo comune il partito in effetti può poco dire perché non ne sapeva assolutamente nulla. Anche a noi è una notizia che abbiamo appreso. Io personalmente l'ho appresa dai giornali sull'opportunità o meno. Evidentemente l'aggiunta regionale l'ha ritenuto opportuno. Io credo che almeno, non dico discuterlo col gruppo consigliare, ma almeno comunicarlo al gruppo consigliare una decisione del genere andava fatta. Dal punto di vista personale l'ingegnere Massarella sicuramente è un ottimo professionista, forse fra i migliori in circolazione. Forse di questi tempi scegliere una procedura di evidenza pubblica sarebbe stato quantomeno meno attaccabile da voi giornalisti, anche dalla collettività che in questo momento è disorientata e ha bisogno di certezze. Alcuno dice che Massarella è uno dei fedelissimi del governatore Frattura, vicinissimo a lui, anche in campagna elettorale. Quindi secondo lei questo ha pesato ovviamente sulla scelta? Ma questo forse bisognerebbe chiederlo al presidente Frattura e al consigliere Massarella. Sicuramente ci saranno dei rapporti di fiducia, probabilmente avrà pesato nella nomina. Questo non lo so dire. E il Comune di Campobasso ha pubblicato il bando per il concorso pubblico che prevede contributi destinati a chi va a vivere in affitto. Le informazioni possono essere richieste all'ufficio alloggi in via Cavour dove si può avere assistenza per compilare le domande che dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Il bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito www.comune.campobasso.it Oggi lutto cittadino a Larino dove alle 16.30 nel Duomo ci saranno i funerali di Giorgia Caruso, la ragazza di 15 anni morta investita da un'auto alla periferia della città. Lei un padre, un genitore, ha voluto scrivere una lettera struggente. Ascoltiamola nel servizio di Silvia Valente. Conoscere la morte a 15 anni, confrontarsi con un dolore che non si immaginava di poter provare, o almeno non così presto. Giorgia ha lasciato un vuoto. Accettarlo sarà difficile e comprenderlo forse impossibile, specie a 15 anni. Questo un genitore lo sa, come sa che proprio a lui spetterà il compito di accogliere le tante domande di una figlia adolescente e di consolarla per la perdita di un'amica. Giorgia non è più tra noi, questo mia figlia lo sa. Sono le parole di un padre affranto che ha deciso di scrivere una lettera alla piccola Giorgia in nome dell'amicizia che la legava a sua figlia. Erano amiche, compagnie di classe, confidenti, un solo cuore, come amano dire le ragazze a quell'età. Vita, speranza, gioia, felicità. Con queste parole il padre descrive l'amicizia di sua figlia e di Giorgia. Un vuoto che sarà difficile da colmare. Tra le righe la preoccupazione di un padre e quel sentimento di inadeguatezza e di paura. Paura di non riuscire a dare la giusta consolazione a una figlia che soffre. Nella lettera tutta la disperazione dell'uomo che la considerava come un'altra figlia. Impossibile da accettare, scrive ancora, per un'età così delicata. Ma la vita insegna anche questo, a soffrire e a renderci più duri verso quanto deve ancora accadere, riflette il papà. Fiducioso che un giorno il dolore di sua figlia sarà più lieve perché, scrive, Giorgia non potrà mai scomparire nei cuori e nelle menti di quanti l'hanno amata perché, come ho detto a mia figlia, lasciava il segno per il suo modo di essere. So che la ricorderà anche un domani da donna, conclude il papà, quando sarà mamma, perché le amicizie del cuore non si dimenticano. La polizia ha denunciato un 41enne di Napoli per un tentativo di truffa ai danni di una donna anziana. L'uomo si trovava nel parcheggio di un centro commerciale quando un agente della squadra volante, che al momento non era in servizio, lo ha notato perché si aggirava a bordo della sua auto con fare sospetto. Allertati i colleghi, l'agente ha seguito l'uomo fino al parcheggio di un altro supermercato in centro città dove lo ha accolto sul fatto mentre cercava di convincere una donna anziana di aver subito dei danni alla macchina mentre parcheggiava la gente. Ha osservato tutta la scena e lo ha prontamente bloccato e portato in questura. Nuovi migranti in arrivo in provincia di Sernia con una novità. 30 di loro probabilmente saranno ospitati anche nel capoluogo all'hotel Sayonara. Intanto oggi in prefettura si è registrata la protesta degli ospiti della struttura di pesca e sentiamo Sergio Dincenzo. Attualmente sono poco meno di 300 i migranti ospitati nelle varie strutture accreditate della provincia di Sernia, ma nel giro di qualche settimana il numero potrebbe raddoppiare. Lo si evince dalla nuova gradatoria delle ditte stilata in prefettura, dalla quale tra l'altro emerge una novità destinata a infiammare nuovamente il dibattito politico in città. L'hotel Sayonara di Sernia si è classificato quarto e dunque potrà ospitare 30 adulti. Al primo posto c'è Agnone, che ha dato la disponibilità per 50 persone, mentre due strutture di Monteroduni hanno dato il proprio assenso ad accogliere complessivamente 200 migranti. L'ultima parola aspetta tuttavia al prefetto Filippo Piritore, ma con i continui sbarchi sulle coste italiane è fin troppo facile ipotizzare che presto i posti disponibili saranno in buona parte occupati. Stamattina intanto si è registrata una nuova protesta, stavolta da parte degli ospiti dell'albergo-ristorante Il Corallo di Pesche. Una delegazione, dopo aver raggiunto l'ufficio del governo, è stata ricevuta dai vertici dell'ufficio immigrazione. Durante l'incontro si è fatto accenno a una serie di problematiche, su tutte le razioni di cibo ritenute scarse. In realtà, spiega il gestore della struttura, si è trattato solo di un malinteso. Questo non è vero, siccome niente, stamattina si è verificato un inconveniente. Il custode giustamente ha detto adesso chiamo la polizia, chiamo le forze dell'ordine per fargli stare un po' tranquilli così, perché alzavano la voce. E loro per ripicca gli hanno detto che, vabbè, allora a questo punto ci andiamo noi dalla polizia. Però ecco, se noi andiamo a intervistarli tutti quanti, sono ampiamente soddisfatti e noi ci teniamo a fare bella figura e per noi li trattiamo come se fossero i nostri figli o fratelli. In realtà le proteste per il cibo, per la connessione a internet che lascia desiderare e altri piccoli inconvenienti sembrano nascondere l'attenzione dei migranti dovuta dai tempi d'attesa dei documenti per la richiesta di asilo politico, documenti fondamentali senza i quali, tra l'altro, non ci si può iscrivere al servizio sanitario per ricevere l'assistenza medica, comunque garantita in caso di necessità. Trasporto pubblico, il forum e il suo presidente Filippo Poleggi tornano sui problemi delle ferrovie in Molise e sollecitano Trenitalia e la regione. Sentiamo. Disagi, ritardi, storture di ogni genere nel trasporto ferroviario molisano sono sotto gli occhi di tutti treni vecchi e sporchi collegamenti con la capitale non solo che riservano agli utenti spiacevoli sorprese. Il forum del trasporto pubblico da tempo ormai denuncia e sollecita Trenitalia e regione ultimamente la segnalazione delle biglietterie molte volte chiuse nonostante sia un servizio pagato. Filippo Poleggi, presidente del forum, con i suoi componenti è tornato nuovamente a far sentire la sua voce su alcuni temi. Il rifiuto di Trenitalia di fornire i nuovi treni per viaggiatori acquistati con un mutuo contratto con la BCE garantito dallo Stato perché la regione è in ritardo con i pagamenti dei debiti pregressi. Ma noi troviamo questo ingiusto rispetto ai viaggiatori molisani perché tutto l'esercizio di Trenitalia e di ferrovie italiane avviene con finanziamento dello Stato. Ma torniamo arrogante che Ferrovie ci ha risposto TPL dice bugie, i nuovi treni non sono acquistati con i soldi dello Stato. Nel 2012 le ferrovie dello Stato hanno speso 5 miliardi e passa quasi 6 e hanno ricavato 2 miliardi e qualche cosa. E allora gli chiediamo con quali soldi acquistano i treni tali se non con i soldi nuovi, se non con i soldi dello Stato. Sulla pulizia dei treni poi l'interrogativo di Poleggi è perché si è ridotto il servizio di pulizia sui treni a Campobasso. Questa è la risposta che ha ottenuto. Il servizio è stato ridotto nel periodo estivo perché è stato spostato sulla tratta tirrenica e ci chiediamo come i servizi del Molise con i soldi del Molise vengono spostati da un'altra parte. Come questo è possibile? Il Forum del Trasporto Pubblico ha detto rappresenta la voce di diversi utenti e non può né deve essere considerato con sufficienza. Chiediamo di rivedere questi provvedimenti in estrema sintesi. Chiediamo di instaurare un rapporto nuovo di comunicazione, di scambio, di informazione che noi possiamo dare. E sempre per quanto riguarda i trasporti quali sono la forza e la credibilità della giunta frattura e quanto si chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico in merito alla mancata fermata in Molise del Frecciarossa che tra qualche giorno sarà attivo sulla linea adriatica. Era l'11 febbraio dello scorso anno ha ricordato Federico quando il governo regionale prese una dura posizione nei confronti di RFI affermando che il Molise non avrebbe alzato le barricate per il problema del tratto termo-lilesina ma a condizione che il nostro territorio non dovesse essere sfruttato solo come passaggio. Dovrà esserci, dissero il governatore Frattura e l'assessore Nagni una sosta a beneficio dei nostri cittadini sul punto non accetteremo deroghe. Ora, conclude Federico, sappiamo tutti come è andata a finire. Settembre è mese della vendemmia. Secondo gli esperti il caldo dell'estate ha garantito una produzione di grande qualità soprattutto per le uve a bacca rossa. Dunque anche per la nostra tintiglia si profila un'annata da incorniciare. Giovanni Di Tota. L'estate torrida che ci stiamo mettendo alle spalle oltre ad aver garantito giornate di mare e di sole per i milioni di turisti che hanno scelto per le vacanze e le coste italiane lascerà un altro segno positivo. Ci sono tutte le condizioni per un'annata da ricordare nella produzione del vino. L'etichetta 2015, dicono gli esperti, sarà ottima dal punto di vista della qualità e la vendemmia viene stimata con un incremento dal 5 al 10%. Il caldo dell'estate, associato a qualche giorno di pioggia che ha intervallato la calura durante il mese di agosto, ha gettato le basi per i grappoli che daranno risultati significativi soprattutto quelli a bacca rossa, Montepulciano, Sangiovese, Nebbiolo e la nostra tintiglia. Molto dipenderà dal mese di settembre nel corso del quale si concentrano le operazioni di raccolta. Tuttavia, le previsioni sono ottime e, sottolineano dalla Coldiretti, lo stato fitosanitario dei vigneti è in tutta Italia molto buono. Se non ci saranno sconvolgimenti climatici, la produzione del Made in Italy, secondo le stime, sarà destinata per oltre il 40% al mercato estero. Un appuntamento importante anche per le cantine molisane che negli ultimi anni hanno compiuto un notevole passo in avanti sia in termini di qualità delle bottiglie che per la presenza sul mercato. E a dare un impulso decisivo sono di questa idea gli stessi vignaioli è stata la tintiglia. Uva a bacca rossa tutta molisana che può diventare un traino per un settore in costante espansione che nella penisola dà lavoro a più di un milione 200.000 persone. La palla alle istituzioni per il passaggio da molti ritenuto decisivo quello della Costituzione del Consorzio di Tutela del Vino Molisano. Anche a Expo, migliore biglietto da visita della Regione. E si conclude venerdì 4 settembre presso le cantine Tenimenti Grieco a Porto Cannone con la visione del film Sideways la terza edizione di Cinema in Cantina il percorso eno cinematografico nelle cantine del Molise organizzato dal Movimento Turismo del Vino Molise e dall'Associazione Cinema Teatro K con il contributo dell'assessorato regionale all'agricoltura. È stato registrato il sold out in quasi tutte le serate a conferma del gradimento della manifestazione che propone la visione di film a tema eno gastronomico abbinati alla degustazione di vini e prodotti gastronomici del territorio. Molto soddisfatti sia Gabriele Di Blasio sia Francesco Di Imperio Presidenti delle rispettive associazioni organizzatrici. E ora andiamo in Canada dove la comunità ielsese di Montreal ha celebrato la 34esima edizione della festa di Sant'Anna la festa del grano. Sentiamo Valeria Farina. Da Ielsi a Montreal la festa di Sant'Anna celebrata dalla comunità ielsese in Canada compie 34 anni. In questo modo il legame tra gli emigrati e la loro terra di origine si rafforza, si rinnova e rivive nel segno della tradizione. Una processione quella che si è tenuta all'altro ieri nella città canadese in cui i protagonisti sono stati i carri realizzati con il grano, le traglie e i costumi tipici del paese del furtore. Una 34esima edizione sentita e partecipata che guarda già all'anno prossimo dove protagonista sarà il carro realizzato da alcuni giovani canadesi originari di Ielsi che quest'anno hanno visitato il paese in occasione del 26 luglio. Il carro infatti che ora è a Ielsi sarà spedito in Canada ed esposto l'anno prossimo in America. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Ielsesi di Montreal. E tutto il nostro telegiornale termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per l'edizione delle 15 buon pomeriggio.